Bottiglie e materiali in plastica, detriti e cerpame vario ammassato sulle sponde del torrente Rava e lungo i canali di deflusso delle strade poderali. Accade a Venafro, dove ormai da tempo, alla vista di residenti e di quanti transitano in quell'area, la parte sud della città, si offre questo a dir poco sgradevole spettacolo. È il risultato della grande e per certi aspetti straordinaria pioggia d'inizio anno, allorquando le forti precipitazioni imperversarono sul Venafrano provocando la pena del torrente. Per il corso d'acqua, nella fase più critica, si temette addirittura l'esondazione. Rientrata l'allerta e ristabilitosi il livello dell'acqua entro limiti di sicurezza, quel che è rimasto, trascinato dall'impieto delle acque, è ora, ahimè, ben visibile. Mai prima, ci hanno detto alcuni residenti, le sponde del torrente sono apparse in questo stato, così sporche. Certo, la causa è legata, come detto, ad un evento straordinario e non contrastabile, un evento che tuttavia si è verificato due mesi e mezzo orsono. Probabilmente l'ente consortile che gestisce quell'area si starà attivando per correre ai ripari. C'è da sperare che l'attesa per il necessario intervento non si prolunghi oltremodo.